Qualità e convenienza possiamo dire che è il light motive che lega tutti i punti vendita di Eureka Ottica. Sì, certamente. La base è una fabbrica che ci dà qualità di certificazione dell'occhiale e quindi entrambi, come i vecchi negozi, ci danno la sicurezza di un prodotto finale perfettamente in linea per le aspettative dei nostri clienti. I clienti in questi negozi non trovano soltanto ottimi occhiali, lenti di tutti i geni, dalla monofocale alla progressiva, ma trova anche staff professionale, un team davvero qualificato per porre in essere una serie di controlli, di accertamenti per poi scegliere l'occhiale e la lente più adatta. Sì, partono prima di tutto dalla parte commerciale per poter dare il miglior aiuto al cliente a scegliere la montatura giusta e quant'altro. Poi passano al controllo della vista, sono tutti ottici diplomati alla scuola Matucci di Avellino e quindi sono stati formati dalla scuola e poi indirizzati alla pratica tecnica proprio di un negozio di ottica, quindi sono valenti operatori per la strumentazione di cui io fa piacere di avere a disposizione e loro sono ben contenti di poterla utilizzare per dare il miglior risultato possibile per un occhiale sicuramente perfetto.